Eccoci qua, siamo entrando in un lungo finale per la pista 1-6 a Roma-Urbe. Ecco, qui stiamo passando sul raccordo, croce e delizia per tutti i romani. Eccoci qua, praticamente già allineati con la 1-6. E' un avanti, 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 avanti. E' un 109, perfetto. Chi da solo si mette a mitola? Grazie 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 Mettissimo 80 minuti 85 minuti 75 79 79 79 65 60 Perfetto Io più morbido di così non potevo farlo Un po' più Meglio di così Più morbido di così non so Aero Club E se possibile ci ha ritardo Sì Grazie Un po' più Un po' più morbido Un po' più morbido Poi hai toccato proprio sull'ostallo E tutto si deve fare Perfetto Questa Massimo Iure E' andato in tango no? Stavo scherzando eh? Stavo scherzando eh? Stavo scherzando eh? Stavo scherzando eh? Intanto un po' più morbido L'abbiamo messo in cascina Un po' più morbido in cascina Messa da parte Per l'inverno Ciao ragazzi Ciao Buon fine settimana a tutti E' un po' più morbido Sì Sì E' un po' più morbido Esatto Mi metto io l'ho capito Si? Questo Spectro Che fai? Dov'è? Al piangere qui Lo lasci fuori? No, no, poi lo mettono dentro Ah, pensavo che glielo mettessi sulla porta Eccoci qua